Se il giovane cerchi un lavoro disperatamente, anche in questi tempi di crisi un'opportunità sul nostro territorio c'è. Ci sono infatti delle aziende della Meccanica che sono in cerca proprio di giovani lavoratori da inserire nelle proprie officine. Si partirebbe con un tirocinio di formazione per poi essere inseriti in azienda, come addetti a tutti gli effetti. Si parlerà di questa opportunità giovedì 27 settembre, quando gli under 30 potranno conoscere al Teatro Leone. Il futuro è nella Meccanica, un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune e una decina di imprenditori di Castelleone. Le imprese della Meccanica del territorio infatti stanno vivendo fortunatamente una fase di sviluppo e rinascita dovuta soprattutto al mercato estero e ora sono in grado di offrire nuove opportunità a chi volesse iniziare a costruirsi un futuro lavorativo.